Io mi metto con le scarpe quelle che hai messo te, i sandali, i arancioni. Che vestiti, che vestiti, signori? Io ho messo questo. Scegliete voi. Aspetta, no, non vedo. Ah, ok, aspetta, allora, solo che metto... Ehm... Le scarpe queste, faccio per leggere il nome. Ok. Mettiamo i sandali, quelli arancioni, i miei scemi. Aspetta, un attimo. Qua gli arancioni. No. Fluo, sandali, arancioni? Ok, va bene. E arma che mettiamo? Non lo so, è un sandali. Arma che mettiamo? Se no mettiamo, tipo, questi occhiali. Oh mio Dio, che fashion. Sei troppo fashion. Non so. Ho messo comunque... Non so questi occhiali là su. Intanto creo, allora. Quindi rimaniamo con me, sta messo Jay? Cioè? Aspetta. Ok, niente. Aspetta. Ho creato 2580. 2580. Sì, così. È bellissimo. Ma quindi mettiamo lo sparasole? Boh, sì. Forse. Se vuoi fare un'altra roba infame, si può fare tutti splasher elite. Cioè facciamo tutti col crab tank. Allora mi chiamo le polper duplo che hanno il crab tank. Ok, danno. Cola, no, va bene. Le polper duplo. Oddio, non avevo visto che si posava. Ho sbagliato, aspetta. Gran, ci ho armato. Aspetta, io devo un attimo ricreare la partita, scusate. Dove uscire. Aspetta, entro da te Onion, lascia la partita aperta. Ok, ok. Perché mi sono ricordato che... Oh, ok, adesso... Io che ballo, mi dà strumento. E' bellissimo, lo spavore. 2580 comunque. Sì, adesso... Vieni qui, vieni qui. Io sono qui che sto facendo qualcosa. Adesso mi sono ricordato. Sì, è questa arma qui. Sto provando a fare qualcosa e tipo... Mi butto da questo muro, adesso, sempre sul muro. Mi estigo. Non chiedete. Adesso arriva anche Armenoka. Io a chi no, ti vedo. Io a chi no. Dove siete? Ai mia. Sono qui che ho... Andiamo a dar caffè. Andiamo al caffè. Adesso... Ti... Tu è troppo bello. Sono dietro di voi. Ah, ma aspetta, che occhiali ha Jay? No, Jay ha altri occhiali. Io ho sbagliato. Gli Armenoka abbiamo sbagliato. Dopo metteremo gli occhiali giusti. Vabbè. Così bello. Madonna, mi fa paura il... Come si chiama il carico? Ho paura del retro della testa, giuro. Mi sa che... Odio gli octoling. Dove siete? No, siete scomparsi. Sì, aspetta, ricompariremo. Ma come? Io sono sceso. Ah, sei sceso. Io mi sto per buttare... Arrivo. Te l'ho buttato. Dove taglio comincia? Beh, avremo gli occhiali diversi. Sì, squadra con taglio sfumato con occhiali fluossandri, arancioni e le polpertouplo. È bellissimo. Oh mio Dio. Dopo ci mettiamo anche gli occhiali uguali e... Sì, mettiamo quelli da sole che sono più fashion. Fashion. Ma chi è? Chi è esploso? Jai. Io. L'rishiamo. L'art. Sto già odiando quell'arma. Ma come faccio il granchio? Allora, con il granchio ZR spari colpi a ripetizione. R lanci le bombe, ZL vai in modalità sfera tipo. Non lo so, è un carro armato. Sì. Le comiamo bombe. Oddio, questa canzone non piace la chida. In questo gioco di strada prima. Venite, venite. Aspetta, mi fai di caricata. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcuno mi deve aiutare. Io qua ci muoio, ok? Caricata. No, 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 no. Ottimo. Io l'ho appena usata. Usate da tutti. Mi metto qua a usarla. Ehi, onion. Bello. No, ma che cazzo è morto. Non ho manco così tempo di usarla. Mi metto a piangere così, però. Io volevo usarla. Sì, sono straffato. Un attimo. Ok. Manca il tempo che diventa il granchio. Allora, il granchio sei vulnerabile da dietro e dai lati. E dopo te lo possono rompere. Te lo possono anche rompere se... Ora sta a piangere. Voglio usarlo. Non ho manco il tempo che... No, manca il tempo che... Colpa di questo arco schifoso. Devi morire e godo. Ok, provo a usare... Oddio. Adesso mi metto soddisfatto. Sì, certo. Perché ho provato il... Foto fuori l'arco. Venite da... Sono nella loro base. Carino. Sono soddisfatto perché sono vettuto a provare il granchio. Andiamo nella base. Sì, russi ora. Ma a me che sta drittando questo col controllo del ruolo che dicevo. Uno si è buttato nel vuoto. Bello. Tipo, puoi andare tranquillamente in base ai ruolo. Ma questa è bellissima. Che ora non c'è più, diciamo, quella cupola che ti protegge. Ma non è un posto per proteggerti. Oddio, va. Questo fa male. Io lo so che proteggiamo ogni tanto. Questo farà male per i cerchini. Ok, mettiamoci gli occhiali da sole. Dopo faccio lo screenshot, dopo che abbiamo tutti gli occhiali da sole. Ok. Oddio, sì. Carmo usiamo. Ma questa lasciamo, va bene. Usiamo un blaster. Ma no, hanno quella bolla. Facciamolo. Va bene, ok. Uh, 103.000. Però mettiamoci gli occhiali da sole. Ok. Allora, dove è il blaster? Eccolo. Quale è il blaster? Il blaster è un'attività totale con questa arma speciale. Che schifo. Sì. No, ormai abbiamo messo il blaster. Ormai abbiamo messo il blaster. Ok, ok, ok. No, il blaster spara. Ah, Onion, i blaster non hanno più jump a RNG. In che senso? Allora, quando salti su Splatoon 2, i colpi del blaster vanno casualmente a destra, sinistra oppure dritto. Adesso vanno solo dritto. No. Ma in realtà è buono. Sì, in realtà è buono, sì, perché così hai più precisione. Sì, io infatti non ho il blaster per questo motivo. Ma io ho il blaster in ciasco. Siamo proprio drippati. Siamo drippati. Siamo male. Però make make. Io spero che ci sarà il blaster quello che sto minando. Sto Splatoon 2. Il rapido. Il blaster rapido c'è. Scusate, sei male. No, ma non è colpa mia, se mi trovo bene con il blaster. Bello, ho fatto un altro. Oh, due dire. Ma che farà con il blaster. La maledetta bolla. Pensavo che fossi di un altro team che ti ho attaccato. Non ho busciato poi in una Umbra. Mi sa che sto minando quest'arma. Scusa? Sì, ma dici che ci può menare il blaster e il male. Senti, il blaster rapido è un altro livello. Oddio. Cosa è successo? L'erogra a quel male. Ho splattato il cucione. Ma l'erogra un po' con la base bombita. Donna, devi morire. Sto uccidendo tutte le persone. Mi sa che devo oscillare un po'. Mi sa che il blaster non era una buona idea. Sì, sì. A me sta andando bene. A me sta andando male. Sera. Ma aiuto. Però diciamo che stiamo perdendo. E' che per colorare c'è il massimo. Aspetta, mi muoio. Ok. Io sto colorando e basta. Io voglio provare la super del blaster. In realtà è abbastanza utile. Però diciamo che il fatto che puoi passarci attraverso è un po' brutto. No, voglio provare quello di un blaster. Un amico. Vabbè, resisti una settimana. Ce la puoi fare. Oh no. Se non muore questo, scusa, eh. Cosa mi ha scattato? Io sento morti. Tabula rasa. Vai, vai, vai. Ora dovete affaccare. Io voglio prendere lo squadron 3. Cioè il 9 esce. Poi il 12 io devo fare la gita con la squadron. Il 9 esce il squadron 2. Tabula rasa. Vai, 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 vai. Sì. E tipo il 12 devo fare una gita con la squadron. Non ho una specie vacanza. Non so come chiamarla. Day 3 praticamente. Sì, non ho una smith. Dai, abbiamo vinto col blaster. Col blaster. Aspetta, aspetta. Ma i sticker quelli che stanno sopra, cioè, non lo so. Adesso faccio la foto. Sì, la faccio pure io. Che mod siamo ora? Ma troppo belli, per favore. Akin, akin. Eh. Che mod siamo. Eh, no, no, no. Aspetta, adesso ci penso. Adesso ci penso. Intanto andate nello spogliatoio. Dopo vi dico. Ok, ok. No, non cambia più caso. Nel senso. Nulla. Adesso ci... Dici. Qui non abbiamo problema con le switch che tipo non si connettano. Ma ci sono i server. E meno male, finalmente. Tutti con l'arco. Ti ho lasciato? Tutti con l'arco, sì. Come tutti con l'arco? Eh sì. Cosa? Perché mi odi? Perché è così. Perché è così? Stesso drip, comunque. Stesso drip. Di più ovvio. Allora, non mi dà tu bocca. 2580. Ok. Non mi avevo l'idea di fare tutti con l'arco. Eh, colpa tua, Jay. Ma io non so usare l'arco. Perché mi odi? Più lo usi, più lo usi, più capirai. Come usarlo. Capirò. Capirò che essere massifissi e bali. Sì. Eh? Dove mi fa entrare? Ma hai creato la... Adesso sì. Mi dice che la lobby è stata chiusa. Magari tornerà. Sei sicuro, Kino? Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Sì, sì, sì. Ah, certo, per certo. Ma non è che ci vuoi ripensare. No, eh? No. Sicuro? Sì. Sicuro, signor. Ripensamento all'ultimo minuto. Ok, ci sono. Andiamo al bar, comunque. Andiamo al bar. Bellissimo. Ma il bar è molto chill. Posso dire che questo bar è molto chill. È bello. Siete scomparsi? Adesso ritorneremo, aspettate. 3, 2, 1. No, niente. Aspetta, torneremo comunque. Rimanete al bar. Eccovi. Io mi salvo, è bellissimo. Oglion se n'è andato dal bar, ma come cosa? Oh no, Oglion, però c'è... Dicomi a andartene così dal bar, così. Ma che cosa ho detto? Andartene dal bar, così, senza salutare. Cisterna Cernia, comunque. Oddio. Quale colore ha questa armi? Fai dunque. Per chiacchino. Guarda che non è colpa mia, l'ha proposto Jay. Jay. Ma mi si è già caricata la... Che vero, ma che cavolo? Eccola, anche a me si è caricata. Siamo tutti su uno. A me non mi si carica. Aiuto. Che vai via. Non muori, granchio. Schivoso. Non ho... Non sono sopravvissuto. Dai. Nero sopravvissuto. Coso. Sì. Aiuto. Aiuto. Ma dove siete? Io sono morto. Io sono nella loro base. Ma con questa mano riesci ad ammazzare nulla. Ma sì che riesci. Io non ci riesco. Ma devi fare cheap damage. Devi andare sui missili, non sul... Non sul colpo caricato. No, però... Ti trovo, però... Scusate. Adesso te lo dico. Io l'avevo già capito, però non ci riesco. Scusate. Ma io non ti riesco a ritori. Scusate. 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 c'è qualcuno penso che l'arco non sia una buona idea ma va non era una buona idea a me piacciono le animazioni dell'arco sono molto belle le animazioni sono fie non riesco ad ammazzare madonna ho ucciso una madonna ho ucciso il rullo devi scassare nulla mi facciano sentire la canzone così se non muore questo non perché ma non muore ma che stavo lì ma ne ho ucciso uno a me c'è due che cosa io ho ucciso due eppure io ma casissimo di giuro adesso capire come funziona tabula rasa ma alla fine è impossibile ok dobbiamo cambiare armi tabula rasa significa tabula rasa ah ma aspetta ah no niente stavo dicendo stavo dicendo ma avete cambiato inting tipo no no perché prima mi era successo l'avevo pensato mettiamo tipo mettiamo no eh eh non ho capito nulla lo splasher ok ci diamo ci diamo ci diamo ci diamo ci diamo al bar signore tutti al bar io devo andare a recuperare una persona sedetevi qui aspetta se siamo scomparsi ricompariremo io mi sono seduto su una sedia sono seduta al tavolo per due ok ah ecco bellissime con queste partite è molto bello siamo bellissimi questa è l'unica arma che ha il traizuka comunque l'unica? si ok questa è l'unica arma che ha il più possibile è un'altra squadra che cavolo cosa? è già morto uno ma è un po' di dire amico ha il traizzo e il traizzo che è in faccia io l'ho visto questo gioco è rotto ah beh è una demo vedi te se è rotto eh direi di che ma solamente è un po' triste diciamo la schermata del camerino c'è su questo gioco è molto colorato ma poi non è colorato cioè non ti ho sparato no muori un attimo non ho rinciosto onion ha fatto tipo lo squid roll sul muro che? onion c'è in partita attenzione vai via come è fatta a non morire? nel senso le revolcher fa le chiamano le odio perfetto però non si è una coin dopo giochiamo seriamente dopo giochiamo seriamente mi odiano mi odiano mi odiano rimettetevi i vostri oci dopo ok aiuto ok dopo penso che ne faccio l'ultima ok un attimo muori granchio schifoso mi sono salvata per niente muori grazie c'è un altro qui preso mi sa uno che si ama di garfa casissimo oddio mi sono ricordato prima avevo trovato delle patatine ho fatto una quadra basta cosa ho fatto una quadra ma cioè ho fatto due chili a distanza di un po' quindi non penso che conti ma mi vedo tipo se la vogliamo contare come quadra dopo rimettetevi i vostri personaggi originali avevo trovato delle patatine dei pokemon e poi erano scadotissime mi piacevano scadotissime e quindi ho preso la sorpresa è stata molto mistica è uscito Yimi ce l'avevo preso solo perché avevo visto oddio le patatine dei pokemon vediamole però sono a scadure siamo tutti uguali troppo belli pure la posa usciamo per resettare i nostri piccoli tipo qualcosa e dopo giochiamo l'ultima serie ok ti provo ognuno con le proprie si si tutto tutto come vogliamo io non ho una main io si allora allora personaggio ma no io non si può cambiare no non era la scarpa che avevo prima mi sono scadato che scarpe aiuti dopo ricreò ci sono ancora sui messi mi ho toling se non mi aiuti perché voglio mettere l'hoctoling con i primi capelli ho capito quali vero? i pianti mi fanno sì sì la pianta non ci sono gli occhi grigi aiuto mi servono io voglio vedere che cosa danno gli amiibo ma usciranno gli amiibo anche delle si si ma funzioneranno su splatoon 3 no spero che usciranno tipo in inverno in inverno arrivano quelli di splatoon 3 mi manca l'inverno io mi do l'ora di prenderli non ci sta per niente aspetta non lo ricambio io sono cioè hai capito no? il mio scopo non è confondermi però cioè a me si piacciono di più king però allo stesso tempo voglio mettere l'hoctoling a me è il contrario bellissimo ok penso che uno che ha scritto autismo yaoi bellissimo è quell'esserino quello là yuppi non so come non so cosa provo nel vedere questo ma sono ma io solo io mi sono messo a cercare quello che bella la macarena perché no anch'io l'ho cercato ma io forse so dov'è io no aspetta adesso lo vado a cercare non so se avete sentito tipo un botto ma è una signora che sta sparando sotto la mia sta sparando una signora down non trovo la macarena perché trovato ho trovato ho trovato la macarena ho trovato la macarena ma non è completa la macarena ma c'è anche il c'è anche la medusa che fa la macarena oddio pure da me ci sta basta io devo registrare sta roba no nello spazio comunque adesso ricreo adesso creo no ma ho creato io ah ok va bene allora entro da te comunque Jay se dopo vuoi fare una partita tricolore mi piace forza va un po' paura ma ho fatto il video vediamo se mi ha fatto il video del tipo che balla la macarena no guarda il video del tipo che balla la macarena allora vediamo cosa usa non posso fare il video come non puoi fare il video ma che ne so dice che non mi vuole far vedere il tipo che balla la macarena sì partita seria ok dann non so se mettere lo splasher lo splatter splatter non so se mette lo splatter o il calamaravaggio io non ho ancora incontrato nessuno col cecchino io prima stavo usando il cecchino non so che penso che metto adesso aspetta che mappe sono io mi metto la mia main non le conosco le mappe cisterna cerni e discarica trita tutto e sono nuove io vado al bar arrivederci andiamo un attimo dopo mi metterò l'octobrush diventiamo delle mentos non riesco un attimo sopprano di fare qualcosa no metto no non metto aspetta per favore non riesco a guardare i capelli dell'octobling guarda come saltano per favore e ci metterò quasi tipo una raschegghera non fate caso ma perché li hanno fatti che si muovono così tante tenete premuto a a sì per mettere ok oddio oddio che sono scritto sembra non lo so io 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 dico io dico che questa roba qui è tipo una scritta dell'IKEA proprio stavo pensando all'IKEA lo sai sì me ricorda l'IKEA come arrivo al bar siete al bar? sì mi sembra una scritta dell'IKEA ciao sono qui ciao aspetta adesso ricompariremo ecco adesso torniamo dai tornate eccovi sono qui ti alba oddio la switch è che quando squid bug diventi la mentos sì partita per cento quando io metto un'algera scena per cento perché? no vincere ma perché? allora adesso dobbiamo vincere dobbiamo vincere io cioè non è che posso colorare no no mi stavo buttare giù dobbiamo vincere io voglio vedere mercato fruttato sì no 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 perché pensavo di avere il gran botto sono abituato per cui io all'armi c'è stato sì qui il gran botto ce l'ha solo l'idrante oddio perché? preso allora adesso io voglio uscire da usare quella prendete i potenziamenti prendete i potenziamenti prendete i potenziamenti bene sopra sul ponte aspetta no no non non ne ho questa lì ok yeah sì provo cosa ho fatto se lo muovo boom boom è uscito boom 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 ok rivedo penso di poter fare qualcosa amori prendete i potenziamenti aspetta sono morti non uso le lighter da qualche giorno che? non mi picchiate se è tipo che non uso le lighter da qualche giorno vabbè fa bene beh in una partita per cento direi che fa oh l'ho ucciso fa male let's go tabula rasa io purtroppo devo rimanere in una zona un po' più sì presi due e c'era anche un terzo avevo visto un terzo insomma tipo aspetta voglio provare ma in splat il 3 non funziona non funziona non funziona non riuscivo mai a uccidere qualcuno con lo squalo madonna mia mi fa prendere lo squalo è malissimo eh comunque ci stanno recuperando ma perché? adesso tipo automaticamente non mino più eh stiamo perdendo no cosa? adesso tipo non mino più le oh no oh oh eh mi sa che l'abbiamo perse cavolo cavolo penso che posso farne un'altra e poi vado sì partita per cento è triste senti non so le lighter stanno ballando non lo userò mai più perché ballano? perché è una partita per cento ah cambia pure per cento per dieci per cento oddio ho fatto undici kill 5 kill ma io metto io metto l'octobrush io metto la mia light io ho fatto di notare di no 4 mi si era bloccato un ottimo che ansia allora cosa facciamo fermo metto aiuto io vado al bar just in case io vado al bar oggi oggi tutti i giorni hanno splatoon 3 poi splatoon 2 nessuno se lo pensa che io quindi non è oddio ma mo chiudono i server di splatoon 1 no 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 non cambiano i server di splatoon non li chiudono i server di splatoon 1 non li chiudono più no sono tutti aperti sia quelli di splatoon 2 ma in realtà splatoon 1 e splatoon 2 non hanno server solo splatoon 3 ha i server i server di splatoon 1 e splatoon 2 vengono creati praticamente un giocatore crea un server se si udisce la partita sono i famosi server peer to peer che dipendono dalle connessioni delle persone io avevo letto qualcosa su questa cosa ma non cioè non avevo adesso te l'ho spiegato onion ok andiamo a sfidere su di oh 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 prima mi è uscito il boom adesso mi è uscito oh 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 sto un po' colorando nella loro base questo un po' questa canzone è la vita crabtank crabtank eh dai infarto vai via 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 subito ma che cosa sta succedendo non sto capendo potete essere speciali o un casino non sto capendo non sto capendo speciali ok si eccolo ecco preso ma per il problema dei potenziamenti tipo si può distruggere agli ammessari o in realtà non credo non lo so lo stavo provando ad attaccare non dai non uscito vi posso solo dire che potenziamenti da velocità rigenerazione e basta c'è anche ti rigeneri in un secondo se lo prendi io uso l'octobrush l'octobrush è da chad allora no no Joy sei morto eh vincere dai questa la dobbiamo vincere abbiamo perso quella là ma dobbiamo vincere io mi sa che non mi sto concentrando sul colorare perché dai con un blaster quindi colore io comunque i genomini e carta non vincerà grazie ti amo e che mi ha salvato beh almeno abbiamo supportato Frye fry best idol la sua fronte è fatissima no allora best idol di Splodon 3 perché la mia preferita sono Alga e Marie è Kelly tabula rasa tabula rasa venita vai prima io c'ero in inglese quindi la prima volta mi ha spesso sta roba non capisco nulla se l'abbiamo vinta male sì perché in inglese è wipe out eh quindi non capivo che c***o eh in italiano in italiano è tabula rasa ha senso particolare oddio cosa ho fatto oddio ma io mi sono ascoltato di modificare tipo la il cartellino quello sotto la carta ti sento che laghi perché l'avevo modificato proprio l'avevo cancellato i dati perché volevo rifare il tutorial sono mollusco elite card 3 oddio ho fatto 16 kill cos'è io metto l'idrante allora io vado people vincete lo splatfest ok bye bye ciao bye bye ciao allora nel caso chiedo se del team card c'è qualcuno vediamo ok ma io ho il telefono carico no ok ce l'ho carico infatti donna io sto morendo di caldo ma perché avete messo due duplo perché sì la battaglia comincia ci ha trovato un random adesso mi iscrivano mi iscrivano jay stai laggando io voglio la ferma morire bene bello vuoi fare il cinese quando uno sto laggando quindi questo è l'importante ok dopo dopo si unisce qualcuno sai che sto laggando tanto tanto non sto laggando tantissimo va meglio mi senti? sì ok ho messo i dati mobili quindi dovrebbe andare meglio secchino molto non posso capire quanto sto odiando il secchio ma sto laggando ancora e quindi non sento no no ti sento ti sento sì tu che non parli no sono io che non parlo non hai fatto una buona mossa no perché mi diventa un nostro laggando non sono buttata cavolo cavolo aiuto ma quindi Splatoon 3 non ho capito sarà l'ultimo della serie o no no quello è la fine della storia probabilmente forse faranno ancora altri giochi di Splatoon sì magari con una nuova storia no perché se no mi dispiace io io credo che questa sarà mia ultima e dopo giocare magari un po' da solo magari poi provo a fare quella tricolore aiuto ma poi ci saranno pure con gli altri Splatfest quelle date sì sì ci sono anche con gli altri Splatfest io mi do la di vedere gli altri Splatfest bene io abbandono e spengo qui la trasmissione